Ance Bari-Bat è la prima sezione territoriale italiana dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ad adottare il codice di condotta volontario Cantiere Impatto Sostenibile, sviluppato da Assimpre di Lance, l'associazione delle imprese edili delle province di Milano, Lodi e Monza-Brianza. Il protocollo di intesa prevede che Ance, Bari e Bat attivi un percorso analogo a quello di Assimpre di Lance, per far sottoscrivere agli associati del Barese e della Bat un manifesto contenente otto impegni di sostenibilità, spiega l'associazione in una nota. L'intesa vede anche la costituzione di una cabina di regia per verificare la corretta attuazione del codice di condotta e condividerne i progressi. L'accordo, dichiara il presidente di Ance, Bari-Bat, Nicola Bonerba, testimonia la grande maturità delle imprese associate nei confronti del tema della sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche sociale. Seguiremo tutta la disciplina del codice di condotta, aggiunge, e a breve nomineremo il Comitato Tecnico Scientifico di Vigilanza e Monitoraggio, affinché siano garantite trasparenza e serietà dell'accordo anche nei confronti dei nostri stakeholder.